E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Market Love Comunque ragazzi, se io non ci sono stata per tutte queste cose, ho fatto dei shorts Ma perché mi ritengo, scusatemi la parolaccia, che faccio cagare a fare video, che faccio schifo E quindi oggi proverò a fare un video di Minecraft in questa mia vanilla della 1.20 Facciamo così, se raggiungiamo i 100 iscritti, io proverò a fare una live, ci provo Se non riesco a fare la live, farò un video speciale e proverò a farlo tipo con la telecamera E al computer provarò a fare il editing, se ci riesco Se non ci riuscirò, va bene Quindi, vedete di me raccogliere la legna, così Sì, ma adesso facciamo il tour della mia vanilla Vedi, ok, e poi costruiamo qualcosa Allora, questa è la mia casetta Da da fuori Dentro, un po' meglio Qui c'ho fornaci, barili, cose messe a caso Anche il cammone Qui c'ho una miniera, non chiedetemi no Qui c'ho una cosa bellissima Perché c'è un nome qui Non c'è un picchietto Allora, c'è una foresta di margherite E io, come mi chiamo? Bacchetto Love Qual è il mio nome in italiano? Margarita Quindi Penso che in questo mondo ci si vede Ecco, vedete, qui c'è un po' meglio Di là si è spagna in cruda Vabbè, andiamo di là Qui è appena così Che potreste eliminare da Minecraft Qualsiasi cosa Io E' il mettere in diamante Perché sto da la parola Perché è il panno Anche se preferisco E' il mettere in oro O' di un panno Io E' il Il Ragazzi Comunque qui C'è il mio Magazzino Che voglio Che voglio Che voglio Che voglio Non l'ho mai visto Il signore regionale Quindi non lo so E quindi volevo Stavo provando a fare questo E adesso qui Continuiamo a costruirlo E Intanto chiacchieriamo Allora Vi volevo dire Io Vorrei troppo Che questo Che questo canale E' da aggiungersi Più di cento iscritti Perché Perché Soprattutto Perché Stavo guardando La live Di Kendall Che Praticamente Ha smesso di farla Perché c'è un impegno Che pazzie Quindi Oh no Sto arrivando la notte Ok Più di cento iscritti Su come fare Su come fare Su come fare meglio i video Me lo dia Lo Lo Gli darei un abbraccione Lo Sarei molto grata Perché Perché io Veramente Ho aperto Questo canale Due anni fa C'è Undici C'ho Diciannove Iscritti Mamma mia Il peggior canale Di sempre Quindi Speriamo Fatemi arrivare A cento iscritti Almeno Ditelo Ai vostri amici Sarei molto Ma Molto Grata Di questo Quindi Continuiamo Nella mia Vanilla Da quanto Io Ho aperto Questa vanilla Da tantissimo Non ci ho mai fatto Un video Quindi Non vi siete persi nulla E quindi Io l'ho aperta Da un po' Da appena Dal giorno dopo Che è arrivata La 1.20 Perché ero Gasatissima Volete che faccia Un video Dove Provo a fare Tutto Quanto Vi faccio vedere Tutti i miei mondi O almeno Tanti video In una serie Che vi faccio vedere Tutti i miei mondi Scrivetemelo Nei commenti Devo mangiare Devo mangiare Devo mangiare Lo so Che sono le 2 di mattina Però Devo mangiare Allora Comunque Sto sito è bellissimo Non Non si Spawna Qui Ve lo dico Ci sono arrivata Con il Comando tp Anche se sono Su berlox Comunque È bellissimo Perché Qui mi sono messo Scavare a caso E all'inizio Quando avevo Due Due minuti Dopo Aver Essere arrivata Nella foresta Di ciliegio Avevo Già Spada Ascia E piccone In vero Lascia Mi si adotta Il piccone Invece Lo sto tenendo Da parte Ma comunque Io so C'ho una sfortuna Che Io trovo In un'altra Vanilla Che ho Trovo 2.000 C'ho 2.000 Casse Piene Di Rame Che non serve A niente Ci sono 3 crafting In croce Per il rame E invece C'è Non trovo Niente Di ferro Che non trovo Nulla Nulla C'è Ma poi Sono così Sfortunata Che c'ho Che io Ho A volte C'ho Carenza Di Carbone Capite Carbone Comunque Scrivetemi Nei commenti Anche se volete Altri video Di mine E se Questo canale Arriverà A un certo Numero Di Scriviti Potrei fare Un bel video Dove andiamo In esplorazioni In esplorazioni Io Non ho mai In esplorazioni Perché Cosa qui E' la cosa Che mi fa Paglia L'ultima Volta Che ci sono Andata Nella 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 Sono morta Per tre Volte Di Scriviti In mare In mani In mani Non si fa nulla Colorante Bianco Colorante Bianco Comunque Io Gioco Da Better In Edition Ma Mi trovo Bene E' la versione Piore realistica Secondo me Tipo Molto Gallina Sì Però Meglio Java Ma Anche se Dall'iPad Non si può Non si può Avele Java Però C'è Quello Uso Anche Il computer Dei miei Fratelli Che lo usano Quindi E Non sapete Quanto L'agra C'è Lì C'è Una Cosa Di L'agra C'è L'agra Più Assurdo Che ha Guardato Quei Viste Tu La Prima Pau 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 Se lo vedete Qui In basso I colicini Dell'agra Quelli Pau 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 piccicare Pau Lai Dimi Se mi Mi Pau 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 allora mi dà una soddisfazione enorme tutto questo qui così spero troppo che questo video vi piaccia il ritorno di margaret love se volete se me lo scrivete nei commenti farò altri video di minecraft e quindi da la vostra nabba di minecraft è tutto ci vediamo nel prossimo nel forse prossimo video nello prossimo shots e vi mando un saluto e un abbraccione e lasciate mi piace iscrivetevi se arriviamo a 100 iscritti più di 100 100 iscritti e proverò a fare boh boh farò uno speciale e comunque io appena faranno il primo episodio della big hardcore abbiamo scritto su instagram mio fratello ha scritto se possiamo posso partecipare se dicono di no vabbè il data pack è accessibile a tutti gli youtuber quindi la porterò anche se non incontrerò il mio idolo quindi che andare a cliccarli comunque un saluto e ciao scusate che fail un saluto e ciao